Prima di annunciare il prossimo concorrente, segnalo che tutte le selezioni e la serata conclusiva con il concerto dei laureati sono trasmesse su YouTube Lipitzer 2022 dalla produzione video tv web Alessandro Bonfanti e Daniana Cescutti. Passo ad annunciare il quarto concorrente di questa mattina, Kimura Wakana, di nazionalità cittadinanza giapponese, di anni 21. Eseguirà nell'ordine di Juan Sebastian Bach Alemanda, dubble corrente e dubble presto dalla prima partita in sé minore, di Rodolfo Lipitzer, variazioni ad libitum, allegro sostenuto, allegro, dalla tecnica superiore del violino, di Volkangam, Leus Mozart, concerto di La Maggiore, KV 219, primo movimento, cadenza di Joachim, di Sivori, studio capriccio numero 11, dall'Opera 25. Il pianista sarà accompagnato dal pianista Eugen Sinaski. Grazie. Applausi. 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 ... ... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.